oi mi chiamo il video con il mio canale ok ciao batto vai vai siamo qua in una partita casuale abbiamo deciso di giocare questi e ho detto perché non lo registriamo a caso io sono Rosalinda e papà è Kamek perché l'ultima volta ho visto che Kamek OP allora ha detto io sto a me un netto perché sono un bimbo di... perfetto, perfetto guarda la grande, sei butta sempre per terra però, la mecca bomba che ha girato, si vabbè, porca miseria, forse sei qual è il problema, e poi si ha girato a mettere la difficoltà, che hai messo? ho messo professionista, ma dai, ma perché di solito gioco così, metto specialista dai, specialista, mi sembra un po' esagerato il professionista, ci fanno niente, ci fanno, tu li metti di Kamek, e tutto a posto, ok? ma cosa sei fuori? me lo dovevi dire? ricominciamo e facciamo finita di niente, ok? sempre di nuovo io e te contro Spavillotto e Yoshi ragazzi, ok, va bene, va bene, dai, sto gambo di schifo ma va bene, vado eh, vai, scusa, ti dovevo, con la palla mia, pesco, ciao, testa di melone, e allora mia la palla, tranquilla, me lo volevi dire, beh, scusa, mi ha chiuso a mettere le robe, dura, era fuori palesemente, no, comunque secondo me pure la mia era fuori palesemente, comunque abbiamo messo rapido, ragazzi, dai becca, noi ci facciamo un po' più di partite, oh, ancora, che durano però di meno, e quello, ma perché no, non l'ha tirato, se ti stanno a stracciare, ma se Rosalina non tira, guarda che bello però, si fa volando, volando, ma che cagata, ma come se contro di me sei fortissimo, e insieme fai schifo, no, perché sono sotto rete, o mi devo allontanare un po', eh sì, io mi allontano sempre, ma vaffan cucciolo, guarda, pensavo la prendessi però, che spirulone, oh, oh, basta, che cavolo, dai a te, tu hai, tu hai, tu hai, no, no, no dai, non ci credo, ci hai fatto praticamente, abbiamo perso già, stanno a sei, non ci credo, guarda, papà, almeno un punto, dai, ecco, oh, non ci posso credere, non ci posso credere, tanto forte, non ci posso credere, io non ho parole, mamma mia, vabbè, facciamoci un altro finalmente, però, cioè, vai sì, vai, ma che burrascuso, non ci posso credere, io e te contro, stavolta, oh my god, oh my, due personaggi che dovrebbero fare tirer il petto, oh, perché anche Rosalinda dovrebbe, eh, eh, bella, che piaciuta, da una parte, bella, fra, è piaciuta, cioè, la torano troppo a giro, quando è così non ti sa storia, sì, infatti, c'è pure Rosalinda a volte vedi fatiglia a giro, sì, però, ma che cavolo fai, però, Kamek, Kamek li fa di più, sì, tira più effetto, sì, tira più di altre bombe, ma è stupida, ho visto che bombe che tira, ragazzuola, no, ma è stupida Rosalina che tira male, dentro, no, era dentro, secondo me è fuori, no, si vedeva, eh, guarda, uno di lato, era dentro, ma non dico che è dentro, ragazzi, è dentro, è giusto, e nessuno che prova a dire di no, Carica, carica no, carica, carica miseria, ti, 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 ti,Кolico giugiu-ligni, bum, vedete, eh, questo non sbaglio mai, eh, aspetta, dove il carica, a tutto spiano, fai, ma staggia io, ti, Ma, tanto ti, ho confuso l'idea, ok, Ho capito, ma il personaggio non è così veloce da arrivare là, è quello il fatto, cioè non è colpa mia Cioè vai Non lo si vabbè Non l'ha presa comunque, gli stava a fianco No, no, rivediamo Ma se stava a un chilometro di distanza Non è vero, guarda E guarda Infatti qua non so come l'ha presa La poteva, ti puoi E non sei che ti avvicinare la televisione, non la prendi la volta Perché? Eh Era dentro Sicura? Era dentro È fuori alla grande Che figura Che figura di me Quando lo dico quando la parlo canta non è dentro Quando invece dico Che figura Ho sbagliato io in modo di dirlo, ok? Su dicevo con più tranquillità Eh no, era fuori uguale No, no, no Vai l'altra, vai Ragazzi, maratona di partite A tennis Vai Io e te un'altra volta conti Ok, good, good Ti straccio Ormai Sei morta Sì, papà E questo personaggio di M Grazie a questa geppetta Chi? Chi? E c'è sembra Guarda Perché si prepara Guarda Si prepara Ma se la pala sta là Perché tu ti prepari? Cioè io non capisco il senso di questa cosa che fanno Eh vabbè Sì, a casa Si è voluta troppo Non mai mi hanno preparato Eh, bellissimo Bellissimo ascoltare le tue parole Non sapevo di chi Tagliato Ho gioco così Oh Vedi, faccio più meglio quando gioco così Guarda Ma hai visto che bombe da lontano? Cioè raga, io sto giocata Adesso mi so Allungata? Mi so giocata allungata E ho fatto tiri Ma su Cioè davanti Cioè ti sto Non so Che ne ho un certo punto Però poi ti straccio E te ne vai via Ti è Mamma Che insegno avevo fatto? Sì, ma guarda Ma è lenta Rosalissima Ma hai visto che tiro che ho fatto? Ma non sei vista? No, cortissima 4 a 3 Ti mordo Non ci credo Non ci credo Perché mi hanno tirato da sola? No, e che cazzarola però Non è giusto Non dirò queste parole Dobbiamo mettere Family 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 Ma che family Family In questo video Ti fa bestemmiare come un turco Ti fa bestemmiare Sì, ho reto sto Guarda lì 6 a 4 Non ci credo È incredibile Salute Salute Vado? Sì Bomba Ma va va Tu prendi la bomba per f*** Quando 3 va a significare che è sbagliato Che hai fatto schifo Sì, esatto Bellissimo Questo è perfetto Ne ha 6 Perfetto Come si riduce delle linee Guarda Vado eh Vado eh Vi sta prendendo in giro Vi sta prendendo in giro No, no Ti ho tirato veramente Ho tirato sul serio Vai a pisciare Ti è Beccati sui Come no E' roba Sì Che bello Guarda Il bello di questo È una puduria in mare Ragazzi Ti vado a buttare dal balcone Una puduria in mare Cioè incredibile Cioè sta streghetta Amicipiale Vatti vai No, non me l'aspettavo Veramente ragazzi Vi giuro Non me l'aspettavo Prendo sempre quella io Sto prendendo No Eh Chi ti prendo Chi mi prendo Ma dopo hai cercato loro Cioè Ah siamo niente contro loro Vai Dobbiamo stracciare Ma se non vinciamo Ti tiro Dobbiamo stracciare Mi raccomando Nel campo davanti Guarda quante persone Stanno a guardare Non possiamo fare una brutta figura Eh sì Brutta figura Contro due stupidi No Non la c'è No Perché l'hanno tirato Il doppio La linea No, ho capito che era fuori Ma dove va quello Se ne andavo solo Ma è stupido Da Perché devi tenere Stupido da Sempre fa così Vanno state le mie occhie Che vedi che c'è Quale vai Tu eh Non la Oh No Saluta nè No Che bastardi Era troppo contro la palla Ma dai il campo dove si vedono tutti i puntini Che sa con la palla Tutti i puntini Esagonali Oh Che è Mamma Guarda Rosalinda Rosalinda canna Ma che servizio vincente Incredico Ti metto sempre dietro Sì Faccio pure questo Così No No Cablo Bomba Guarda un po' Quello di granchio La che è qui Bomba Quanto la prende là Questa è eccezionale Stiamo a giocare bene C'è camera che è impressionante Ce la siamo accata bene In sta parte Tu eh Bella Che bomba Pissile No ragazzi Rivediamo Hai visto che il chiacchio mi ha fatto Guarda Ed è mai successo All'ultimo di quello Tu eh Fli Mi sono spostato Fli fregati Mamma mia ragazzi Cosa sta succedendo Oh ma che partita è questa E' picidiale Oh Mi scanzo eh Merry good No E' fuori 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 E' tanto giro Ok 5 a 3 Eh no Questa è una partita eccezionale Oh vabbè Che cos'era Fuori 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 Bellissimo Ragazzi ragazzi Parla dell'incontro Vai Questa è buona Guarda un S che dici Guarda no Ce l'ho volato farlo bro Oh che mai che si sono così caricati Eh che non lo sai Eh che non lo sai Lo fanno apposta no No Compute Verdi Prova eh Oh Cosa No Fuori No 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 Non voglio perdere E lo so Allora Lo dirò io Speriamo bene Oh Aspetta E qua Noo E lo so Aia Ma che stai a fare Stai a tirare al mobile No raga No 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 Serio Non ci posso credere I bot Quando vedono che perdono Diventano così su Eh lo so Io non ho Mamma mia Tu eh Io sta cosa non la capisco Come l'ha presa Non lo so Non lo so Eeeh Che ci posso fare No ma non possiamo perdere questa veramente La monta del secolo Ti prego Che scrive E fai Che bello A beh La fatti un po' La fatti un po' Soprrenderla Guarda eh Eh no no C'è Che arrivava più Non è rimasto per qualcosa Secondo me non ci arrivava più ormai No papà E lasciala a me Vabbè Ce l'avevo Eh Ce l'avevo proprio passato sulla Eh Vabbè Sul culo Che culo Allora Fai schifo Ho capito Io non li so fare Quei Quei cavolo Di così Che la palla sta qua Oh Che non ci fosse Kamek Eccola Questa è la palla di l'incontro Ti sposto su Boom No Excuse me Sorry Vai Addio Mamma mia Tua 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 È tutto tua Gira di là È buona Che va Che va Che va Che va Che va Che va che ha detto soccorato il vantaggio ma non mi tiro di emala ai eis ma la giornata dobbiamo però questa è buona questa me la serve questa è buonissima gioco da lavai abbiamo vinto veramente ragazzi ho temuto il peggio ovviamente temuto il peggio per un momento porca miseria ragazzi vedete che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao